Alla presenza dell'ammiraglio di squadra Filippo Maria Foffi, comandante in capo del Conforal, si è svolta nella piazza d'armi della base navale di Taranto della Marina Militare la cerimonia del cambio al vertice del Comando delle Forze d'Altura. L'ammiraglio di divisione Paolo Treu ha ceduto il comando al Contramiraglio Andrea Gueglio. Il comandante cedente Treu lascia a chi gli è subentrato una eredità pesante ed onorata. Nel corso dell'incarico, durato un anno, l'alto ufficiale al Comando delle Forze d'Altura è stato a capo di numerose e importanti attività addestrative ed operative, tra queste Mare Nostrum nel canale di Sicilia, Unifil nelle acque antistanti in Libano e le operazioni di contrasto alla pirateria marittima, ma anche campagne navali volte a valorizzare le eccellenze nazionali italiane nel mondo, ad addestrare le marine dei paesi visitati ed a svolgere assistenza umanitaria.